Mauro Pirino, che festa? Festa incredibile quest'anno, 1500 superati alla grande, divertimento, passione, soprattutto voglia di camminare, ma voglia di camminare anche di chi è meno fortunato, di tutti, perché il walking, il camminare è di tutti, è di tutti ed è per tutti. Sì, solidarietà poi ai massimi livelli, abbiamo visto 19 associazioni che hanno sposato il vostro progetto e naturalmente è già in itinere la prossima edizione, Mauro. Sì, 19 associazioni, forse anche 20, non ho i numeri ufficiali, ma una ventina di associazioni che ci hanno aiutato in questo progetto incredibile per la vita appunto, nel portare a camminare tutti per star bene e per fare solidarietà. Nel 2020 io mi sono già immaginato il giorno 18 ottobre 2020, non nascondo che mi piacerebbe, non so se dirlo, ma è... E' vero, è vero il fatto che tutti insieme si possono raggiungere obiettivi incredibili. Bene, diciamo che abbiamo aperto nuovi canali anche grazie all'informazione di Sardegna DS, perché no? Perché una festa di questo genere è davvero un tributo a quello che è il vivere, quello vero. Sì, sì, è proprio così, è il vero vivere, è il vero star bene, è il vero stare insieme, è vero il fatto che tutti insieme si possono raggiungere obiettivi incredibili. Voglio ringraziare Sardegna DS per l'opportunità che ci ha dato, per la visibilità che ci sta dando e per la collaborazione che portiamo avanti da un bel po'. E alla prossima, aspettate novità sulla nuova edizione che sarà un posto strepitoso.